Amici di TuttoVeneziaSport e dei Fuoricampo, buonasera e ben ritrovati con nuova video-opinione per fare il punto della situazione in casa Venezia e oggi ovviamente parleremo di quello che è stato il primo successo in questa stagione di Serie A per i Leoni che hanno battuto per 2-1 l'Empoli al Carlo Castellani. Prima di tutto ovviamente vi invito a supportarci sia leggendo i nostri articoli su TuttoVeneziaSport.it, trovate tutto anche sui social Facebook e Instagram e ovviamente iscrivendovi a questo canale mio che in buona parte è anche mio oltre che del mio socio e di altri ospiti che spesso vengono ad aiutarci come Davide Martini che probabilmente conoscete se seguite un po' l'angolo sulla Serie A che facciamo ogni settimana. Detto questo, è una vittoria che lascia tantissimi aspetti positivi e scaccia un po' indietro le perplessità e i dubbi che si stavano iniziando a formare intorno a una squadra perché per quanto entusiasmo e fiducia ci possa essere è chiaro che quando arrivano a vittoria e rigore in Coppa Italia e due sconfitte pesanti con risultati anche abbastanza pesanti c'è inevitabilmente un po' di scoramento anche perché il mercato non è stato quello che si aspettavano in diversi per una neopromossa. Zanetti ha fatto un gran lavoro nei tre giorni di ritiro a Tirrenia, un ritiro necessario perché quando hai così tanti giocatori nuovi è arrivato anche all'ultimo perché per dire che Reke è arrivato abbastanza all'ultimo, un ritiro già ampiamente chiuso, un ritiro estivo ovviamente intendo già ampiamente chiuso devi trovare dei modi e dei momenti per tenere il gruppo tutto assieme, per far conoscere i giocatori e per creare il gruppo. Zanetti ha fatto un grandissimo lavoro in questi tre giorni, si è vista una squadra nell'undici molto simile anche se ci aspettavamo magari addirittura qualche cambio in più, magari Modolo al fianco di Ceccaroni non un Caldara parso abbastanza spesato nelle prime due gare e proprio Caldara invece è tra i migliori in campo è probabilmente uno degli elementi che più ha avuto effetti positivi, ha avuto riscontri positivi grazie alla sosta cioè ha avuto una crescita grazie alla sosta, ecco mi ha impappinato, ho ritrovato il filo del discorso ha avuto più una crescita migliore durante la sosta, il ritiro gli ha fatto bene e contro l'Empoli è stato quasi insuperabile Cutrone e Mancuso, per quanto sia un attaccante temuti, hanno avuto pochissimi tiri a disposizione e pochissimo specchio della porta a disposizione per colpire. Magari un po' meno bene invece la fascia sinistra con Schnegg ancora tanto giovane, sembra ancora anche tanto acerbo, vediamo, vediamo la connessione psicologica ci ha spiegato Zanetti, non era delle migliori, vedremo col tempo, francamente penso darò più fiducia ad Aps per queste prossime partite, Aps ancora indietro, ovviamente essendo appena arrivato lui e Molinaro mi sembrano quelli più adatti, vedremo Schnegg, assicuro non abbia tante qualità attendiamo di vederle, quindi ovviamente ogni giudizio definitivo è rimandato a un numero consistente di partite per poter effettuare questo giudizio. Lato destro ovviamente benissimo, Mazzocchi è stato il miglior destino destro della scorsa stagione e lo ha confermato per l'ennesima volta, in mezzo benissimo anche in mezzo, voti alti per tutti, Vacca ha gestito bene il centrocampo e Busio Mezzala fa sì che i problemi dettati da una mancanza di conoscenza dei meccanismi non si notino poi così tanto, ha lanciato Aramo per il gol dell'1-0, ha gestito diverse situazioni in modo pregevole può diventare un ottimo giocatore per fare il play e presto, per fare il play e presto Mezzala molto meglio, Vacca attualmente sembra ampiamente sopra in quanta garanzia che si possono fornire. Davanti tengo, tengo in dulces in fondo il giocatore più discusso del momento ma immaginerete già di chi sto parlando, Aramo benissimo, speriamo che il problema fisico non sia nulla di grave come non sia nulla di grave per Lezzerini, mentre purtroppo per Fjordilino il problema sembra grave, ma attendiamo qualche dettaglio in più, attualmente si sa solo che per Fjordilino è una sublussazione, Lezzerini ha avuto un riaccutizzarsi di uno stiramento, Aramo non dovrebbe essere stirato, magari i maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni sui tempi di recupero. Aramo comunque molto bene, nella mezz'ora che riuscita a fare ha messo un assist perfetto, Henry probabilmente MVP in campo, in area presenza fissa, gol da attaccante vero, ha tenuto insieme, ha tenuto la squadra alta e per chissà cosa può fare quando gli arriverà qualche pallone giocabile in più, bene anche Occhiarei che da ne ho entrato, devastante, ha spaccato in due la partita come gli ha chiesto di fare Zanetti, su Jonsen è difficile dare un giudizio unico perché quello che fa lui lo fa benissimo, cioè non è facile vedere esterni offensivi che hanno una facilità nel saltare l'uomo così, cioè nel saltare l'uomo con una facilità impressionante, ha progressione, idee, piglio, e poi davanti alla porta si emoziona, si emoziona credo, non lo so cosa gli capiti, sai di fatto che deve assolutamente migliorare sotto porta, c'è poco da fare. Questo non vuol dire che la fiducia nei suoi confronti cala, anzi secondo me deve aumentare proprio in virtù della sua facilità nell'uno contro uno, nel dribbling, nel spaccare in due la partita come Occhiarei che deve migliorare l'allenamento in fase realizzativa, deve essere un po' più lucido quando si tratta di colpire a rete, dovrà lavorare a Cezanetti, magari gli gioverà l'avere vicino uno come Occhiarei che invece di gol in carriera non ha fatti tantissimi ma ne ha fatti già di più del norvegese. Subentrati, a parte Occhiarei che gli altri discreti, Menpa non sembra dare fiducia, cioè In B ha fatto benissimo, questo non toglie che In B abbia dato un contributo importante, forse la Serie B è il palcoscenico che più si addice anche in Serie A, pare un po' essere agitato in contrasto con quella che è la cultura nordica, ma sembra un po' essere agitato anche contro l'Empoli, causa un rigore con un'uscita che di finire scomposta è poco, probabilmente avrà altro spazio perché se il problema di Lezzerini dovesse essere discretamente grave deve trovare un po' di serenità, altrimenti c'è il giovane Neri che ok, solo 18 anni però ne parlano benissimo, a quel punto anche Bertinato che però non è in lista ha fatto, anche Bertinato che non è in lista non ha sfigurato più di tanto nelle partite che erano contro Frosinone Napoli, vedremo, vedremo, diciamo che Menpa e Schnegg sono i due parsi un po' più in difficoltà nonostante la bella vittoria, Jonsen bene ma deve migliorare assolutamente sotto porta, questo è indiscutibile altrimenti il salto di qualità non lo farà mai, ha tempo, è giovane, il tempo è tutto dalla sua, in Venezia magari ha un po' meno tempo ma può permettersi di aspettarlo se crea certe situazioni, è chiaro che però la presenza di uno che è re che fa sì che se Jonsen dovesse continuare ad avere difficoltà sotto porta e a quel punto le gerarchie si invertirebbero molto facilmente e anche molto rapidamente perché Zanetti non è uno che lesina troppo su queste cose. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo per il prossimo video, probabilmente un appuntamento di metà settimana altrimenti dopo la prossima partita ovvero Venezia-Spezia che si dovrebbe giocare al Penzo ma il 14 sarà la risposta definitiva, vi invito a restare su tuttoveneziasport.it per tutti gli aggiornamenti, ci trovate anche su Facebook e Instagram, iscrivetevi al canale di Fuoricamp per aiutarci a supportare il nostro lavoro, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima, ciao!